Un saluto ai campani di Tupo, ci troviamo a Međugorje, in Bosnia, una città molto importante per la tradizione della Madonna. Siamo davanti alla chiesa parrucchiale di San Giacomo Apostolo, dove abbiamo 53 campane, un numero bello grosso. Nel campani di sinistra abbiamo 5 campane e adesso abbiamo le 3, a slancio. Nel campani di destra abbiamo 48 campane a Carion e per l'angelo di mezzogiorno vi farò ascoltare la distesa delle campane di Sabeamone 3. Quindi a presto, ricordo che Međugorje è una cittadina molto importante per la Madonna, ripeto. Qui abbiamo la statua della Madonna di Međugorje, che adesso si vede, si mette a fuoco, scusate, adesso si vede, eccola qua. Quindi con questo video, saluto di campane a YouTube, veniteci qualche volta qui a Međugorje che è un posto davvero bellissimo e qualcuno che riprende anche queste campane. Quindi a presto, da campanare al visitatore. Grazie. 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 Grazie.